Benvenuto, mi fanno questo nostro luogo che ci immaginiamo per definizione essere un luogo aperto per le persone che hanno il luogo di esprimere se stessi, di esprimere contenuti di innovazione, evidentemente il nostro tema riguarda innovazione a 360 gradi, pensare di parlare di impresa e etica, pensare di profitto responsabile, pensare di prospettive ma anche di coniugare temi di sviluppare, temi che riguardano appunto la sostenibilità del suo periodo che interessa evidentemente tutti gli ambiti dell'attività imprenditoriale e dell'attività professionale e noi è una sfida nel senso che come istituzione non solo culturale ma anche promuove il territorio, il benessere territorio, tutti i settori che interessano le città.